un giorno un alunno delle scuole superiori domandò al suo insegnante di filosofia professore mi scusi ma qual è la via del successo il professore pensò un momento e rispose è caro e non posso dirti qual è la strada del successo perché neanche io la conosco però ti posso dire se vuoi quella dell'insuccesso certo professore dica ascoltiamo tutti ecco ragazzi la via dell'insuccesso è quella di voler accontentare sempre tutti